buongiorno buongiorno cazzo ma perché oh eccolo comportato sti giorni malissimo malissimo male a scroccolo a casa tua filipe io ho avuto la visita del monsignor scrocchella della curia di cucurano si è bevuto e si è mangiato un frigorifero di roba protettore del sottopalla sottopalla fa sentire il cincillato fa sentire perché mi fai di subito quattro mobili no no c'è a scappare il prete guarda che chiudi la porta il prete dopo non sarà ma perché vogliamo sentire il cincillato parla con la bocca e basta ma vogliamo sentire il cincillato ma dov'è ma dov'è con questa la bici la benedizione live prima che bello è la piazza ecco formazione bella formazione tipo eh sono proprio contento di essere tornato sono proprio contento tu sei contento guarda che domani al parto se vuoi tu nonno no tu sei contento ma tu nonno no è contento ora come ride sotto i baffi il coccodrillone nazionale che è chi è? sshh zitti zitti sshh zitti che è passato il sacrestano sono briscole eh sshh no te scomunica come che cazzo muoio quando passa il sacrestano tutti zitti si la scomunica se no chiude più di tutto infatti ci vuole una pretezione eh eh davvero sshh tu te scomunica sshh tu più sabato ci ha lettigato tu venerdì ci ha lettigato sshh fermate Dio nooo Paolo l'hai visto che ha fatto? si ha fatto il pelo 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 si è cattiva eh dai vai vai restiti un pochino se ce la fai uno due eccolo qua oggi con gioia buongiorno buongiorno eh buongiorno 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 da un pezzo ma ecco Bodytech per le info chiedetela eccola attenzione eccolo qua oh no arzughe carzughe oh carzughe nooo nooo anche la scarpetta ma la fai eh la fai la scarpetta eh buongiorno ma la scarpetta no no basta quanto pane magni chissà chissà la fai la musica perchè ma carina va perchè la cosa mica tu ti ce le metti sti imbecili di me ma è bella è bella è bella la oh no oh lasciali la ma leone 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 perché nooo 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 questo trumasto mare è buono per il mare dormimo posso fare fiamme dai fuori ma te ne rompi coglione anche di qui ma stai dormi ma vuoi già a fan culo ah va sul lettino no vattene che bel pennellino che te posso mannaggia il pennello eh pennello di chi eh mo te lo dicevo ma perchè guardate ragazzi allora basta fare un ciuffo un po lunghino e ci avete subito un pennello da utilizzare con una persona carissima in questo caso io lo utilizzo con mio nonno il mio caro nonno guarda che pennello è l'arte è il don della fronza ah ma il pennellino mannaggia la madre insomma si è venuto a rubare i coglioni qui ah il nonno non vede l'ora che è settembre perchè perchè non vede l'ora che mi fa la cataratta da quest'altro volso perchè perchè dopo puoi ci raccontare i penne della figa delle donne nooo si si stiamo organizzando perchè non vi ho detto che il quindici dal quindici al diciannove agosto porterò tutta la famiglia fuori e saremo staremo lì quattro giorni e quindi ne vedrete ne vedrete delle belle anzi delle bellissime ci sarà nonno Filiberto un po' di miei amici ci sarà veramente 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 saranno veramente dei bei giorni oggi non ce la puo parlare mancarto mancarto destro sinistro antipasto misto non ce la puo parlare quindi quindici diciannove ragazzi faremo delle cose pazzesche FAA 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 ma che cazzo FAA ma voglio affanculo o no sei o è FAA il potere del FAA no no sto cazzo no dai sto cazzo no eh non va bene eh eh quanto è bello guardate quanto è bello guardate quanto è bello guardate che testa quadra baby one two three si il tempo meteo due è è arrivata la bufera è arrivato il temporale ora sta bene chi sta male ora sono cazzo i tuoi fausti eeeh chi è Luca il bello di Roma da Luca guarda 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 il bello di Roma guarda guarda che sottopalla oh Filipe sai che mi hai detto la sensazione che tu c'hai la diarea ma chi? ma chi? c'hai la diarea? non ho preso niente guarda per la diarea ce l'ho io la cura qual'è? c'ho una cura è sicurissima guarda tu stasera ti mette questo non ti capisci mette la diarea tappo sul culo tappo sulle chiappe io non ce l'ho la controaria mette il tappo sull'emoroide fermi mette il tappo sul culetto nooo oh bello in Roma oh come fu? morirete diarea allora guarda che outfit da barca oggi ha buttato via l'acqua cosa? eh? ha buttato via il tappo da una grande grande navigazione grandi navigazioni due fatti di aderio no no guardiamo che qui è l'unico teatro all'aperto gratuito gratuito soprattutto gratuito è improvvisato è improvvisato al momento al momento non c'è niente da studiato è studiato al momento al momento al secondo al centesimo vedete un po' senza copione senza copione senza niente però c'è un coglione però c'è uno che c'è sotto palla uno solo c'è un coglione c'è un coglione solo eeeh come è? che c'è tu? chi c'è tu? dicono due fatti bene eeeh che pallone allora sarebbe bel pallone sarebbe oca come scacci ahhh quadrillini state scrivendo in tantissimi ma lo store è chiuso stiamo facendo riassortimento e è tutto sold out quindi ancora pochi giorni e sarà tutto di nuovo disponibile grazie attenzione attenzione super panone eccolo qua fausto è il suo nome non lo scorda magna il pane di qua e a pranzo e a cena non si può fermare non si può fermare non si può fermare non si può fermare super panone ecco ma in merda che ho come c'è mamma questa mia vado di coglione attenzione perché qua sopra c'è tutta la curva contro di te incredibile il VAR occhi puntati padre spio che controlla tutto dietro lo yogurt super panone vado giù col sale vai si tutto salato si sala 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 mamma mia manco un ulster nooo ma che fai prepotente oh no oh no oh no arriva un caldo assurdo si chiama lucifero lucifero va via lucifero arriva va via lucifero arriva va via eh eh eccola Topazia incredibile dopo eh è bello eh perché Faustino c'avevo un gusto bellissimo con tutti i due eccola e da lì Topazia Topazia eccola è tornata Topazia stasera abbiamo anche Filiberto Nicoletta oggi stasera grande grandi chiacchierate grandi chiacchierate Filipe eh si stasera grandi chiacchierate i grandi cincilla vedo tutto le s*****e se li mette si 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 eh presto se li mette mamma maria ti è arrivato il messaggio che il papa se li mette? sbaglio gli hanno mandato una lettera con dentro delle minacce si nooo mi hanno intercettato dormimo? no ma ha lanciato una bestemmia il papa si per certo e le cazzate la se non me ne vuoi no le minacce no 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 perché? non ti piace? ho parlato con altro prelato dice che non si rimette più no dice che bestemmia da tutta randa il papa miau miau che fa bestemmia che ecco? miau 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 sta bestemmia il papa si mentre si è presenciato un altro argomento secondo me l'ha detta grossi il papa che fa? il papa che fa? eh qualche volta poi cacci tu e pensa da quell'amico tuo che sta sotto terra qualche volta è il demonio quello è il demonio è il demonio da che ti piace il sangue questo? è il demonio le mani fuori ogni volta che metto una cosa sei la più richiesta? eh? scrivete a Topazia ragazzi guardate che c'ha anche che c'ha guarda che c'ha anche Topazia c'ha anche c'ha c'ha anche c'ha c'ha anche c'ha anche guarda che c'ha anche ecco Public Figure la più richiesta da Sardegna è stata anche da Akash Akash guarda che cosch Topazia eh gli ha scritto da Akash guarda che cosch guarda che cosch guarda che Akash che ne pensi di Topazia? bellissima ragazza eh? da sposare da sposare da sposare allora uomini della bella vita vedete deve davvero fare perchè sennò anche tu vai a bere Mario mannaggia eh? 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 maaa un'altra? va via va via eh? va via la colpa è la mia? va via cretino ma io? vai via adesso lo dico la che colla è Roma dillo la che colla è Roma dillo la che colla è Roma sì sì adesso lo dico la che colla è Roma che belli sti momenti estate un momento di relazioni chiacchiere ahhh vita paesana vita paesana paesotto sta arriva il giorno no vanno tutti cotti sta arriva che stai a guardare le donnine un'altra volta no sì sì eh beh avete il metto che stai a guardare fermate di Dio ma poi vuoi questa mia altra volta ma che stai a guardare le donnine un'altra volta ma che stai a guardare oh ma va sul lettino no no ma va a dormire eh ma metti la roba mi fai io ma dai e cazzo ah e la finisce più rimesci lì sta a guardare le donnine guarda 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 buonanotte dai un bacetto buonanotte guarda te è sciatto dico io dai un bacetto guarda quanto sei carino quando fai il nonnino dolci 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 eh 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 no non ti arrabbià nel frattempo 100.000 iscritti sul canale YouTube grazie mille coccodrilli una bella soddisfazione ho aperto il canale sembra gennaio bene bene forza così e Per Youtube da settembre Farò delle cose anche nuove Ci sarà tanta carne al fuoco Quindi grazie mille Per chi ancora non l'ha fatto Iscrivetevi su Youtube Carletto Life Bene Vi auguro la buonanotte Ci vediamo domani Ringrazio tutti per i super messaggi Ne sto leggendo qualcuno E voglio bene raga Notte 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 A domani